ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato da più di 2000 euro al mese per leggere libri vado a vivere in un camper ho detto addio a un lavoro sicuro e ben pagato per andare in giro per il mondo fare quello che amo la mia vera passione non è avere un buon stipendio ma è narrare storie e adesso lo potrò fare in giro per il mondo grazie al mio studio mobile e adesso potrò narrare le storie che tanto vi piacciono attraversando fiumi laghi luoghi montagne amori se volete saperne di più su come trasformerò questo camper questa casa mobile che sarà casa mia per i prossimi anni in uno studio di registrazione seguitemi ne parlerò un po meglio su youtube io il buon michelozzo e il mio camper cesira partiremo molto presto per grandissime avventure seguitemi per sapere quando come cosa e perché salve a tutti i signori e bentornati sul mio canale oggi faccio un aggiornamento in merito al video che ho pubblicato sui social che ho pubblicato anche qui su youtube in forma di short e vi spiegherò quello che è il mio progetto quindi ora diventerò un narratore errante per così dire ho lasciato il mio lavoro come dicevo nel video un lavoro a tempo indeterminato un ennesimo lavoro a tempo indeterminato che mi dava un buono stipendio per fare quello che mi piace cioè registrare audiolibri e farlo anche viaggiando quindi unendo l'utile all'utile al dilettevole al dilettevole quindi unire tutto insieme e fare sì che io possa fare quello che mi piace dove mi piace quando mi piace ora più o meno questo è il sogno il grandissimo sogno in questo momento sono in fase transitoria quindi sono lì che sto provando a fare ancora tutti i passaggi necessari per assicurarmi comunque una più o meno stabilità il camper ce l'ho devo metterlo a posto ho più o meno una data di partenza che non vorrei condividere in questo momento perché farò degli aggiornamenti piano piano ma diciamo che comunque dopo l'estate quindi c'è tutto il tempo del mondo per farvi vedere i video in cui metterò a posto il camper in cui magari proverò a fare questo studio io in questo momento andrò a vivere nel camper e ci lavorerò anche in questo momento io lavoro freelance appunto facendo audiolibri lo faccio sia per voi su youtube quindi con i capitoli che trovate del trono di spade ogni giovedì ma anche volendo di nuove saghe che spero di riuscire a far uscire a breve dato che avrò un pochino più di tempo o meglio sì otto ore al giorno in più che non sono poche ma per fortuna ho anche del lavoro ora questo video è soprattutto per ringraziarvi perché questa chiamata questa voglia questa decisione è nata anche dal supporto vostro da tutti i complimenti da tutto quanto quello che avete fatto a livello anche economico per sostenermi quindi dagli abbonati che vedo che sono sempre di più da quel supporto che mi date anche soltanto occasionale con 5 10 euro quando potete e su questa cosa non faccio affidamento però mi ha dato molta forza anche a livello proprio decisionale quindi di dire ok lascio una tra virgolette certezza per fare quello che mi piace il video è rivolto anche a tutte le persone che mi hanno scritto dicendomi che mi invidiano dicendo che anche loro lo vorrebbero fare o fare qualcos'altro ovviamente non proprio questo di registrare audiolibri in un camper però vorrebbero fare altro vorrebbero viaggiare cambiare lavoro io vi dico di farlo di prendere una decisione e fare quello che vi piace so che la sto facendo semplice so che c'è tanto nella vita so che è complicato io voglio sottolineare che non ho mamma e papà che pagano per qualcosa non ho un fondo uno sponsor qualcuno che mi sta finanziando in questa cosa ho deciso semplicemente sette mesi fa ma anche forse dieci di iniziare a mettere qualcosa di più da parte dal mio lavoro di organizzarmi farmi qualche debito per comprare il mio camper e iniziare questa attività io vi dico di iniziare almeno a muovervi in quella direzione cioè iniziate a pensare e dare credito a quelle che sono le vostre speranze i vostri sogni non accantonateli so che questa è una roba motivazionale da quattro soldi però è la verità non c'è nulla da invidiarmi perché nulla mi è stato tra virgolette regalato e nulla è stato ancora raggiunto io potrò sempre fallire potrò tornare indietro fare altro però sta di fatto che ci avrò provato e il fatto di averci provato è tutto perché preferisco 100 milioni di volte fallire in quello che ho provato a fare e che amo fare piuttosto che avere rimorsi di non aver mai provato e quindi stare nella mia bambagia nella mia comfort zone senza aver nemmeno mai fatto un passo veramente concreto verso quello che voglio fare davvero nella vita io vi invito ovviamente a supportarmi se potete ad aiutarmi farò un crowdfunding a breve dove potrò raccogliere qualche soldo per il mio progetto diciamo che comunque in continua crescita e richiede molto denaro in questo momento per fortuna il lavoro che ho avuto per anni mi ha permesso di comprare praticamente tutto il materiale che mi serve per lavorare quindi io già attualmente lavoro e posso farlo però non si sa mai quando si è in giro cose si rompono situazioni diventano più complicate c'è un mezzo da tenere funzionale quindi vi dico se volete aiutarmi sicuramente trovate tutti i link in descrizione tra paypal tp eccetera quindi per qualunque cosa sapete anche come aiutarmi già da ora ma vi ripeto farò un crowdfunding qualcosa del genere ovviamente anche soltanto il vostro supporto con un commento un mi piace è già più che sufficiente anzi è tutto quello che mi serve quindi ci sono veramente tanti 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 modi in cui potete supportarmi anche in maniera non economica quindi detto questo vi invito a mettere mi piace commentare il video seguirmi qui su youtube seguirmi sui miei canali social quali instagram tiktok facebook tutto quello che vi viene in mente e continuare a seguirmi e parlarne con tutte le persone che conoscete sia del mio progetto che ovviamente degli audiolibri che porto e non dimenticate chiaramente che ogni giovedì alle ore 20 usciranno uno due tre capitoli del trono di spade fino arrivare almeno alla fine di questo libro grazie di nuovo signori vi voglio un bene infinito e ci vediamo molto presto ciao a tutti signori un bacione